Un calendario che arriva sino al periodo natalizio con decine di appuntamenti che spaziano dalla musica allo sport, dall'enogastronomia all'antiquariato, dall'archeologia alla tecnologia, insomma un vero e proprio mix. Questo è il cartellone dei eventi 2017 presentato dall'amministrazione comunale di Cortona. Partiamo con i grandi festival, il festival della musica sacra che quest'anno con Paolo Freso che rilegge il Laudario, poi abbiamo il festival Cortona on the move, il festival di fotografia di viaggio con una mostra fatta dal fotografo di Barack Obama su Barack Obama all'interno del nostro museo dell'Accademia Etrusca. Abbiamo il mix festival, alcuni nomi su tutti, Nicola Piovani e Bob Geldof e poi abbiamo i concerti degli organi storici e poi tutte le attività legate al museo. Partiamo con la notte europea dei musei, questo 20 maggio prossimo in cui apriremo il museo ai bambini e al verde con un laboratorio sulle nostre bellezze naturalistiche condotto da Luca Ghezzi e la sera un film animato di Mia Zache, diciamo così, sulla vita sostenibile e il museo aperto fino dalle 20 alle 23. Cerchiamo di fare questo, di trovare anche nuove soluzioni, questa legata appunto agli appuntamenti con l'Amico Museo sono legati anche per portare nuove persone al museo, per portare le famiglie, avvicinare questa grande fortuna che è a Cortona del Museo archeologico etrusco, di avvicinarlo alle famiglie con una serie anche di laboratori didattici, con un concorso di scrittura. Insomma noi tentiamo in tanti modi di interessare la cittadinanza e il turista a Cortona. Grazie a tutti.